Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi andrò a spiegare i motivi per cui un tipo fra i 18 del mondo pokemon è super efficace, non molto efficace o non ha effetto su un altro tipo. Vi dico subito che un video del genere è stato già realizzato ormai anni fa da Cydonia, di cui vi lascio il link in descrizione. Ma la principale differenza che c'è tra il suo e il mio video è che io ho voluto aggiungere anche le ragioni per cui un tipo non è molto efficace su un altro, oltre a quelle che giustificano la super efficacia o il non avere effetto. È vero che in alcuni casi basta un po' di intuito, non ci vuole un genio per capire che il tipo fuoco non è molto efficace contro il tipo acqua e contro se stesso, ma non ditemi che non vi siete mai chiesti il perché i tipi erba, acqua e fuoco siano non molto efficaci sul tipo drago. Ecco nel video di oggi lo verrete a sapere. Ultimi tre velocissimi per avvisi prima di iniziare. Non tutte le spiegazioni per ogni rapporto di tipo sono facili da capire ed altrettanto sensate, quindi non ve la prendete con me e se ne avete dei migliori potete tranquillamente scriverle nei commenti. Prendo in considerazione solo l'aspetto offensivo di ogni tipo, quindi per fare un esempio dirò che l'elettro non ha effetto sulla terra e non viceversa perché sarebbe una perda di tempo. Infine il video avrà una seconda parte perché a me non piacciono i video lunghi e se ne avessi fatto uno solo sarebbe venuto di 20 minuti. Quindi oggi prendiamo in considerazione 9 tipi su 18. State connessi per la parte 2. E ora bando alle gianci e iniziamo. Il tipo normale non è molto efficace sul tipo roccia dal momento che pokemon senza particolari poteri e che colpiscono commosse per l'appunto normali non farebbero altro che il solletico ad una roccia. Lo stesso discorso vale per il tipo acciaio. Il tipo normale non ha effetto contro il tipo spettro per una questione di materia, quella di cui sono privi i fantasmi, pertanto non possono essere toccati. Il tipo fuoco è super efficace contro il tipo coleottero perché il fuoco può essere utilizzato per uccidere gli insetti, così come attraverso il fumo possono essere tenuti alla larga. Pensate allo zampirone utilizzato per scacciar via le zanzare. È super efficace contro il tipo acciaio perché il fuoco fonde l'acciaio. È super efficace contro il tipo ghiaccio perché al primo accendo di calore il ghiaccio si scioglie e l'acqua ritorna allo stato liquido. È super efficace contro il tipo erba in quanto le foreste e la vegetazione in generale vengono abbattute per lo più tramite incendi e oltretutto lo stesso legno viene utilizzato per dar vita ai falò. Il tipo fuoco non è molto efficace contro il tipo roccia perché al contrario dell'acciaio le rocce non possono essere bruciate. Ovviamente il fuoco non ha potere contro l'acqua e contro se stesso, visto che due fiamme si alimenterebbero a vicenda. Infine non è molto efficace contro il tipo drago perché molti draghi vivono in ambienti marini e in generale non soffrono le alte temperature quanto quelle basse. Essi stessi usano il fuoco generato dal fosforo che hanno nelle fauci per attaccare gli altri esseri viventi. Il tipo lotta è super efficace contro il tipo normale perché un esperto di qualsiasi arte marziale avrà sempre la meglio in un duello rispetto a un uomo o meglio un pokemon comune e senza altri poteri. Se i pokemon di tipo normale possono poco o nulla contro i tipi acciaio e roccia lo stesso non si può dire per i pokemon di tipo lotta. Infatti data la loro forza bruta è un gioco da ragazzi spezzare rocce e materiali densi e lo stesso vale per il ghiaccio. Il tipo lotta è super efficace sul tipo buio per una questione di concetto. I lottatori rappresentano gli eroi e quindi il bene, coloro che usano la forza e una tecnica nobile nei combattimenti. Il tipo buio rappresenta le forze del male che si servono di trucchi sporchi. Ispirandosi alle fiabbe i creatori dei giochi hanno deciso di far vincere il bene contro il male. Il tipo lotta non è molto efficace contro i tipi volante coleottero perché volati gli insetti sono animali piccoli e veloci e che sfuggono facilmente ai movimenti di mani, braccia e gambe. Non è molto efficace contro il tipo veleno per un motivo che dovrebbe più che altro dare la super efficacia ha lo stesso tipo veleno contro il tipo lotta, la quale invece sappiamo non esserci. Il motivo sta nel fatto che il veleno agisce molto più rapidamente quando entra nel circolo di un sangue che scorre velocemente, cosa tipica di chi si allena. La scarsa efficacia si potrebbe a mio parere spiegare col fatto che, dovendo stare attenti a non essere avvelenati, i pokemon di tipo lotta non possono sfruttare le loro abilità fisiche fino in fondo contro il pokemon di tipo veleno. Infatti non basta essere forti per affrontare un serpente o un ragno, bisogna anche usare la testa. Il tipo lotta non è molto efficace contro il tipo psico perché la forza brutta soccombe sempre di fronte all'uso dell'intelligenza. Non è molto efficace infine contro il tipo folletto perché questo rappresenta la magia e le forze della natura e su queste calci, pugni e altre mosse non hanno particolare effetto. Questo discorso si può fare anche e soprattutto per quanto riguarda i fantasmi, sempre perché non possono essere toccati. Pertanto la lotta non ha effetto sullo spettro. Il tipo acqua è super efficace contro il tipo terra perché l'acqua rende molto meno compatta la terra. Basti pensare alle pozzanghere di fango o alla sabbia in riva al mare. È famoso il detto latino gutta cavat lapidem, la goccia scava la roccia. Parlando in termini più scientifici invece dobbiamo far riferimento al fenomeno dell'erosione. Nelle crotte carsiche per esempio è facile capire quali sono gli effetti dell'acqua sulle rocce. L'uso dell'acqua è il modo più comune per spegnere il fuoco. Pertanto il tipo acqua è super efficace contro il tipo fuoco. L'acqua contro se stessa invece non ha alcun potere se non quello di alimentarsi come avviene nel caso delle sondazioni dei fiumi dovute ad alluvioni. L'acqua come risaputo fa crescere le piante e le rende più forti, quindi non può nulla nemmeno contro il tipo erba. E infine il tipo acqua non è molto efficace contro il tipo drago perché come già detto prima molti draghi vivono in ambienti marini e praticamente nessuno di essi ha paura o si trova a disagio a contatto con l'acqua. Il tipo volante è super efficace contro il tipo lotta perché se un uccello dovesse ingaggiare un duello contro un lottatore potrebbe prenderlo a beccate senza subire il minimo danno. È super efficace contro il tipo coleottero e il tipo erba perché gli uccelli mangiano per lo più vermi e piante. Rocce acciaio resistono agli attacchi dei volatili più o meno per la stessa ragione del tipo normale. Un colpo d'ala o una beccata cosa faranno mai contro questi materiali? Il tipo elettro resiste al tipo volante perché gli uccelli devono usare prudenza durante le tempeste e temporali, magari conditi da fulmine e saette. Il tipo erba è super efficace contro il tipo terra perché le radici delle piante crescono appunto nel sottosuolo. Le stesse radici possono spaccare le rocce presenti proprio nel terreno. Il tipo erba è super efficace contro il tipo acqua perché l'erba è ciò che serve alle piante per crescere e inoltre gli ambienti marini sono ricchissimi di alghe e vegetali. Il tipo erba non è molto efficace su ben sette tipi. Vediamoli rapidamente prima che inventino un altro tipo che lo resista. Volante, fuoco, coleottero e veleno lo resistono per un concetto inverso alla super efficacia che hanno contro di esso. Ovviamente le piante contro se stesse non possono fare granché. L'acciaio, al contrario della roccia, non può essere spezzato dalle radici. Il tipo erba non è molto efficace contro il tipo drago per tanti motivi a seconda dell'interpretazione. Due di questi spiegherebbero più che altro il motivo per cui il tipo drago dovrebbe essere super efficace contro il tipo erba. In primo luogo i draghi con la loro forza e la capacità di generare fuochi e fiamme distruggerebbero ogni forma di vita vegetale. E in secondo luogo alcuni draghi si cibano di erba e nel mondo pokemon questo è testimoniato dall'abilità di Gumi, Sligu, Gudra e Drampa, appunto mangiaerba. Una spiegazione più forzata potrebbe essere il fatto che i draghi, come gli uccelli e gli insetti, possono volare e quindi staccarsi da terra, allontanandosi dalle piante che necessariamente sono ancorate ad essa. Il tipo veleno è super efficace sui tipi erba e folletto per ragioni simili. L'erba viene eliminata attraverso erbicidi e pesticidi a base di veleno e poiché come detto prima i folletti incarnano le forze della natura, quest'ultima viene contaminata dal veleno. Nella prima generazione il tipo veleno era super efficace anche contro il tipo coleottero e questo potrebbe essere spiegato facendo riferimento all'uso degli insetticidi, anche questi a base di veleno. La cosa divertente è che anche il coleottero era super efficace contro il tipo veleno e questo non mi pare avere molto senso, ma effettivamente alla seconda generazione hanno reso semplicemente il coleottero poco efficace contro il veleno. Il veleno contro se stesso non è molto efficace perché non so se ne eravate al corrente o se mai ve lo foste chiesto, ma i serpenti e la vita reale sono immuni al veleno di altri serpenti. Magari era una cosa scontata, magari no, però io ve la dico lo stesso. Il veleno non rega danni a rocce e terreno, non potendo neanche penetrare in essi. Il veleno non è molto efficace contro il tipo spettro perché anche i fantasmi non possono essere avvelenati, non essendo fatti di carne. Lo stesso vale per il tipo acciaio e l'immunità è dovuta alla totale resistenza che questo materiale ha nei confronti del veleno. Il tipo elettro è sopraefficace contro il tipo volante perché i tuoni e i fulmini mettono a serio il rischio la vita degli uccelli e contro il tipo acqua perché questa è un buon conduttore. Non è molto efficace contro se stesso perché l'elettricità non ha nulla ma alimenta se stessa. Il fatto che il tipo elettro non sia sopraefficace o almeno non arricchi un danno normale ma addirittura sia poco efficace contro il tipo erba è secondo me assurdo. È probabile che l'uomo abbia scoperto il fuoco guardando la fine che faceva un albero colpito da un fulmine. L'unica spiegazione logica che mi sono dato sta nel fatto che l'erba in sé non conduce elettricità ed è connessa alla terra che di fatto annulla gli effetti della stessa elettricità. Il tipo drago resiste al tipo elettro suppongo io perché i draghi non soffrono le scariche elettriche come gli animali e gli uomini mentre una spiegazione più concreta è che fra le tipologie di draghi troviamo draghi celesti e spirituali che hanno il pieno controllo del cielo, delle nuvole, del vento e delle tempeste. Se qualcuno sapesse qualcosa al riguardo della resistenza di erba e drago all'elettro scriva nei commenti. Il tipo elettro non ha effetto contro il tipo terra perché un potenziale elettrico diventa inoffensivo se scaricato al suolo. Il tipo terra è super efficace contro il tipo roccia e il tipo acciaio perché una scossa sismica di medio alta intensità frantumerebbe rocce e ferro. È super efficace contro il tipo fuoco perché si può spegnere un incendio buttando terra su di esso. È super efficace contro il tipo veleno e contro il tipo elettro per il fatto che li rende assolutamente innocui. Non è molto efficace contro il tipo coleottero perché gli insetti possono volare per qualche metro sopra il suolo e subire poco i movimenti della cross terrestre. Tuttavia avrei reso il tipo coleottero completamente immune alla terra proprio come il tipo volante in riferimento alla capacità di volare o fluttuare che hanno i pokemon di questi due tipi. Il tipo erba resiste il tipo terra perché le piante sono radicate saldamente nel terreno e subiscono solo lievemente le scosse delluriche.